www.radiotrepod.rai.it Mario Biondi, destino, le passioni, le ombre, il lavoro, l'amicizia, la seta, l'Italia, l'amore, il mistero di una vita. Romanzo pubblicato dall'edizione TEA. Primo elemento che colpisce, poi parleremo anche della storia complicata di questo libro, è un librone, sono quasi 600 pagine. Lei racconta in una divertente appendice al suo libro, una nota dell'autore, la storia di questo libro e soprattutto proprio delle dimensioni di questo libro, perché lei lo ha composto, almeno in parte, qualche anno fa naturalmente. Sì, parecchi anni fa. E che storia ebbe questo libro? E perché ha avuto una gestazione, non tanto dal suo punto di vista, ma editoriale complicata? Come racconto nella nota che segue il libro, che segue questa edizione del libro, i miei libri, i miei romanzi sono sempre piuttosto, sono stati, sono sempre piuttosto corposi, ma avrei sempre voluto scrivere il grande romanzo, uno di quelli che quando ero ragazzo si chiamavano romanzi fiume. Quando ero ragazzo non c'era la televisione, c'era la radio per l'appunto, ma insomma si aveva tantissimo tempo per leggere, poi vivevo in campagna e se non si leggeva non si faceva altro, per cui i romanzi fiume erano una benedizione. Poi sono diventati un po' meno, una benedizione. Comunque ho sempre avuto la fissa di fare il grandissimo, lunghissimo, esterminato romanzo. Il romanzo di mille pagine lo chiamavo. Di mille pagine, totalmente. Vabbè, parla avanti, poi dopo le chiedo un po' di cose. Però forse non era il tempo giusto. Ma sembrava di sì. Senta, c'erano in giro tantissimi, come ancora adesso, tantissimi romanzi che vengono da fuori dall'Italia, che sono i 600, i 700, i 1500. Quindi chissà che invidia. 1.500. Mario Bioni, un'invidia pazzesca. Ma invidia, io non tanto invidia, quanto io mi dicevo, ma perché i libri di questi stranieri hanno discreto, anzi notevole successo in Italia, perché noi italiani non dobbiamo affrontare un'impresa del genere. E allora, io ero un autore di discreto successo, al mio editore di allora, non starò a fare nomi, ma per carità, ottimo editore, ho detto, senti, io faccio un romanzo così, cosa ne dici? E lui mi ha detto... Io apro le dighe e ti faccio il mio romanzo. Ottima idea, ottima idea. Mi ha detto, fallo, fai un romanzone da mille pagine. Poi, quando gli ho descritto i primi due terzi, diciamo così, è un abbozzo dell'ultime, lui mi ha detto, no, guarda, ho parlato con l'organizzazione commerciale, i tuoi libri van bene, sono sulle 300-350 pagine, van bene così, è un formidabile azzardo quello che corri fare un'opera così grossa. fermati qui, fermati qui a questo punto che può essere una fine, non soltanto, ma sono cose che succedono in ditoria e non c'è da meravigliarsi, non soltanto, ma dovresti fare una cosa, dividilo in due. Dico, dividilo in due, ma sì, a un certo punto inventi un bel finale, a un certo punto... Ma scusi, questo nasceva dal fatto, poi naturalmente entriamo in questo libro Fiume, che un lettore di 300 pagine non ce la fa arrivare a 600. Senta, io ho fatto lo scritto, scrittore di professione, non l'editore. Ho sempre avuto un grande rispetto per loro, per la loro professione, loro hanno sempre avuto molto rispetto per me, devo dire, e quindi io davanti a una cosa del genere ho detto va bene, facciamo un'editore, può anche sbagliare, sbaglia anche l'autore, ma insomma è il primo lettore del libro, è quello che lo valuta per primo, io ho la tendenza ad ascoltarli, ho la tendenza a scoprire, magari mi arrabbio moltissimo dopo, ma... e quindi io ho la prima parte, 360-70 pagine, è uscita come Il destino di un uomo, il romanzo lungo doveva essere intitolato Destino, come è il suo titolo di adesso, e poi dopo è diventato il primo Il destino di un uomo, e il secondo romanzo uscito un anno dopo, un anno e mezzo dopo, Due bellissime signore, e hanno avuto entrambi un notevole, notevolissimo successo, sto parlando di una quindicina di anni fa, sì, quindi una quindicina di anni fa, 92-93 sono usciti i due romanzi, e vabbè, poi sono rimasti lì, ma intanto poi c'era la terza parte, mai sviluppata, Quindi più di mille, quante ne vuole? 1.500? Quante foreste? No, no, ero arrivato a 370, diciamo 750 pagine, verso le 750, ne mancava ancora, per il mio progetto, ancora un 300, ora sono un sensale che ragiona solamente in termini di numeri di pagine, Un criterio un po' sovietico, No, no, ma la storia si sviluppava di conseguenza, solo che la terza parte è rimasta lì, poi si è dispersa, si è dispersa, è andata a far parte di altri, Quindi lei si sta dicendo che ora abbiamo destino, no? Abbiamo destino, fra un po', fra qualche anno ne uscirà un super destino di sulle mille pagine con queste altre 300, No, non credo, tanto perché io non ce la sono, no, basta. Senta, raccontiamo un po' di cose che lei ha scritto però in questi anni, perché appunto guardando la sua bibliografia, lei ha anche molti libri di viaggi, ad esempio, parti, no, aspetta, io qui ho un elenco lungo, quello sulla Turchia, quello è un libro di viaggi, no? Pronto, ci senti ancora? Sì, sono due libri, i miei libri di viaggio sono due, parti con un sorriso, Gülé Gülé, che è un modo di salutare dei turchi, sulla Turchia, sui miei viaggi, con una buona preponderanza di Turchia, paese che ho visitato per oltre 30 anni, e poi un secondo viaggio, che è un secondo libro, che è Strada Bianca, per i monti del cielo, che è come sottotitolo Vagabondo sulla via della seta, in cui racconto tutta la via della seta che ho percorso, non consecutivamente, non in un viaggio solo, ma in una... No, perché mi incuriosceva questo aspetto, avevo letto una sua intervista, in cui raccontava di tanti paesi che lei ha visitato viaggiando, una quarantina, lei diceva, sì, forse di più, forse di più, io ho mente 47, però forse il 47 è morto, che parla, vabbè, comunque, tanti viaggi, appunto, poi prendendo in mano questo librone, è proprio nel senso fisico, ci sono tante pagine, uno pensava, c'è un collegamento, che non sia quello ovvio, peraltro, però c'è un collegamento fra questa capacità, questa voglia di viaggiare, questa grande curiosità e questo spostamento, lei in fondo ci porta in questo libro attraverso tanti anni di storia, questo personaggio, sì, certo è sempre lo stesso personaggio in un certo senso, ma attraverso tanti scenari diversi è anche naturalmente un lungo, un lungo viaggio. Certo, l'hai accolto molto bene, è un lunghissimo viaggio, a me piace viaggiare nella realtà geografica e storica nella quale viviamo, ma mi piace anche fare dei viaggi in realtà che potrebbero esserci, in realtà parallele che secondo me ci sono o che comunque io vado immaginando romanzescamente. Le storie che racconto io, quelle di viaggio, viaggi sono luoghi, persone, cose effettive, reali, concretissime che ho visto e impressioni mie. Gli altri miei romanzi sono viaggi nel possibile, in realtà possibili che non sono realtà reali, ma realtà alta, era comunque possibile. D'altronde, l'immaginazione, che cosa è, se non appunto un modo per viaggiare dove non possiamo ancora magari andare. Allora, vediamo un po' questa storia, questo grande libro. Aspetta, un'ultima cosa che volevo chiedere era su questa sorta di cappello che mi piaceva ridere. Lei, sempre in questa parte finale, in questa nota dell'autore, dice, prendendo un po' in giro tutta quella leva di critici che per tanti anni non facevano che dire, beh, il romanzo è morto, il romanzo è morto, il romanzo è morto, e tuttavia la gente cercava, continuava a leggere i romanzi, cercava grandi romanzi, comprava i grandi romanzi. Come è vissuto questa fase, diciamo questa fase di sborni anche un po' di critica letteraria? Chi voleva raccontare una storia senza tante pretese, senza pensare di fare chissà che cosa, però voleva raccontare storie in un'epoca in cui ti dicono, guarda, quello che fai non esiste più. Come si vive a questo contrasto? Era, era, insomma, dovevo far finta di non accorgermene. Io tra l'altro lavoravo in una casa, ho lavorato in tre importanti case editrici, ho collaborato con non so quante altre. In quel periodo lavoravo... Fra un viaggio e l'altro. Eh? Fra un viaggio e l'altro. Beh no, tra un lavoro e l'altro, un viaggio. Lavoravo in una casa editrice, facevo il capo ufficio stampa, quindi assistevo gli altri scrittori, nella promozione dei loro libri e vedevo che gli scrittori italiani naturalmente io come autore mi mettevo da parte. Quando ho voluto fare l'autore sul serio ho detto adesso scrivo io, ho dato le dimissioni dal mio lavoro e sono rimasto a casa a fare il traduttore, a campare di lavori saltuari. Quando assistevo gli altri scrittori cercavo di fare del mio meglio per loro e francamente non capivo perché dovessero alcuni essere un po' depressi per così dire mentre arrivavano romanzi sterminati inglesi, americani, sudafricani, australiani per loro non era molto e questi andavano benissimo e i nostri non si poteva. Allora ricordiamo stiamo parlando con Mario Biondi il suo libro si intitola Destino Edizioni Tea questo libro è in palio fra i nostri ascoltatori nel gioco di fare e ora riascolteremo la frase letteraria che ci fa da introduzione per il gioco la domanda che vi poniamo è qual è la località a cui si riferisce la voce del nostro viaggiatore letterario Questa grossomodo l'atmosfera tutto era ricoperto da una patina grigia dovuta al gas dei tubi di scappamento delle auto Allora vi stiamo chiedendo appunto qual è la località a cui si riferisce la voce del nostro viaggiatore letterario telefonateci a questo numero verde 800 050 333 se l'è venuto in mente un luogo non ce lo dica Mario Biondi perché con tutti i suoi viaggi chissà quante ipotesi ha già in mente magari è già arrivata la soluzione 800 050 333 Allora entriamo in questo libro in questo fiume immergiamoci nell'acqua del fiume quanti personaggi c'è uno stesso personaggio Donato Ivan Lino in realtà però sono come dire tante forme di una stessa unità anche questo aspetto è interessante come le trasformazioni di un albero dalla ghianda all'albusto e poi all'albero come se ci voressi farci immaginare anche le possibili metamorfosi di una storia Biondi sì il personaggio e il protagonista è uno che è costretto non sa neanche lui chi è si va di che è una storia di assoluto realismo ma questo povero povero un bambino abbandonato un bambino abbandonato che si trova a vivere per orfanotrofia eccetera quindi non sa nemmeno lui non sa chi sono i suoi genitori non sa chi è la sua famiglia a un certo punto si anima la conversazione e lui si porterà dietro per tutta la vita questa incertezza su se stesso non certezza lui non sa non sa da dove arriva però ovviamente sa chi è perché è lui è lui ma con gli altri come si deve come si deve sa chi è oppure io me l'ho fatto un'idea diversa leggendo il suo libro è come se lui avesse avuto proprio bisogno di questa vita così densa e complicata per capire cioè in qualche modo la soluzione di questa domanda ammesso che sia una domanda la scopriamo se la scopriamo alla fine cioè è come se è il percorso stesso in un certo senso la sua verità la sua essenza no no ma assolutamente ragione lei assolutamente ragione lei questa sua questo suo continuo fare 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 rifare che lo porta poi a diventare un uomo di grandissimo successo nel mondo industriale italiano negli anni 60 60 sì è proprio un cercare di costruire un mondo per dare a se stesso una realtà una realtà che lui non è nessuno non è nessuno vive di nomi di nomi inventati vive di nomi che gli vengono appiccicati o che si inventa o che si inventa lui stesso è proprio tutto questo questa attività una specie di sua frenesia frenesia per arrivare alla concretezza per arrivare a un ubiconsystem e in questo alla fine viene formidabilmente aiutato dalle due bellissime signore che rimangono il titolo della seconda parte del romanzo e che erano che era il titolo del secondo patrizia montenotte patrizia montenotte giovane brillante avvocato molto animoso e molto battagliero e la sua compagna dai tempi dai tempi della gioventù trascorsi in Francia a lavorare in Francia naturalmente in questo lungo percorso lui passa in mezzo alle grandi vicende del novecento i grandi drammi le guerre diamo un po' di coordinata lei è un grande viaggiatore si viaggia se uno ha una mappa allora perlomeno dia ai nostri ascoltatori una qualche idea certo lui cresce insomma in un primo orfanotrofio che viene poi scoperto insomma in due orfanotrofie ma fondamentalmente nel secondo orfanotrofio quando già è adolescente nell'Alto Piemonte una località totalmente inventata e immaginaria dell'Alto Piemonte dove ho messo insieme alcuni pezzi di luoghi dove io andavo a sciare e vive lì e mi è affascinato l'idea che da quelle parti c'è una grande una grande galleria una grande galleria scavata non si sa bene da chi e per che cosa e siccome per quelle valli correvano i saraceni negli anni in cui c'erano i saraceni che controllavano il commercio che veniva su dalla Liguria che andava verso la Francia e controllavano la via francigena cioè i pellegrini che dalla Francia venivano verso Roma a fare il loro pellegrinaggio c'erano questi saraceni e loro ho attribuito la costruzione di questo cunicolo a questi saraceni e poi questo cunicolo rimane lì a vicissitudine sue attraverso questo cunicolo il ragazzo poi riesce a scappare sembra un po' la porta del tempo un pochino lo è tant'è vero che guardi la porta lei ha usato la parola esatta perché poi quanto rimaneva della terza parte dell'ipotesi di mille pagine è diventata il mio romanzo una porta di luce che combinazione c'è proprio in cui ricompaiono queste zone ricompare quel cunicolo nella montagna che è un cunicolo che porta veramente verso la scoperta di se stessi come ragazzo scappando dal suo orfanotrofio incappando in questo cunicolo arriva alla libertà arriva alla vita in sostanza un altro ragazzino c'è anche una prova io l'ho letto anche così proprio quel passaggio quel momento i cani stanno per arrivare e il suo amico gli dice no vai io non ce la faccio più se hai rotto una caviglia c'è anche proprio un elemento non poterano cominciare così visto che lei in questo libro ci sono anche come dire tanti generi ecco quello è il momento un po' della prova di iniziazione cioè lì diventa qui è un po' tutto mi gioco tutto o qui divento in un certo senso un uomo oppure torno appunto a un destino già segnato certo sì sì è assolutamente così è assolutamente così quando lui arriva alla fine del cunicolo riesce a sfondare la porta che blocca questo cunicolo e piomba e piomba nella vita non so se si ricorda quel racconto meraviglioso di Calvino di quel soldato mi sembra che cada in quel cunicolo gli buttano le bombe da sopra pensano che sia morto e lui è là sotto non so se era un tedesco un partice no non mi ricordo e lui deve trovarsi la strada in questo cunicolo immaginiamo l'orrore di quella situazione e alla fine alla fine per miracolo esce fuori ecco l'ho sempre letta in questo modo forse era questo che mi risuonava mentre leggevo le sue pagine dicevamo però dei luoghi che attraversa durante questa sua vita poi va in Spagna quindi lui a un certo punto poi deve va a vivere in Francia va a vivere in Francia per una serie di motivi più lui lavora nella seta lui è un grande è un grande artigiano della seta che poi diventa un grande industriale della seta va a vivere e lavorare in Francia in Francia si lega alla resistenza francese va a combattere in Spagna va a combattere in Spagna e lì ha una tragedia che anche quella pesa moltissimo peserà per sempre sulla sua vita e poi torna in Francia partecipa alla resistenza francese viene mandato dai francesi dal machin francese a stabilire un collegamento un collegamento con la resistenza italiana e lo fa con la conoscenza beh lo diciamo lo fa con la conoscenza di quelle montagne e con la conoscenza di quel benedetto cunicolo che nessuno sa esista se non lui è un'altra persona si lui è un'altra persona lo sanno lui riesce a sfuggire all'inseguimento dei nazisti proprio raggiungendo questo quindi torna in Italia in Italia finisce la guerra finisce la resistenza durante la resistenza dopo questo lungo periodo di formazione poi comincia a diventare lì a quel punto comincia il suo lavoro e tu l'attività comincia il suo lavoro incontra un industriale della seta molto quanto si è documentato appunto io penso immaginavo scrivere una storia del genere appunto romanzo fiume ecco avrà avuto a casa una lavagna di vari metri quadrati con tutti i momenti di snodi l'incrocio tra i personaggi non è una cosa che uno può avere semplicemente in testa oppure lei lo seguiva un po' scoprivamente questi passaggi li scrivo tutti prima come se fosse una grande sceneggiatura addirittura guardi per questo romanzo c'ho i disegni dei luoghi perché facevo fatica poi a ricordarmi per poterli raccontare bene visto che erano immaginari mi sono disegnato le montagne con i loro nomi un fiume che viene giù di qua un fiume che viene giù di lassi uniscono al tale paese che è diviso in due il paese da una parte e il paese dall'altra c'ho tutti i disegni ancora a casa e il lavoro di documentazione è stato fortissimo soprattutto per quanto concerne il mondo della seta è quello stavo per chiedere si vede io sono cresciuto sono nato a Milano ma per motivi belli ci sono stato portato a Como molto presto e sono cresciuto a Como quindi a Como si respirava la seta non si respirava aria si respirava la seta adesso non più purtroppo la mia famiglia la mia famiglia direttamente non ha avuto niente a che fare con la seta però si viveva in quel mondo è sempre stata una specie di mito per me la seta e mi è venuto naturale di ambientare questa storia nell'industria della seta e ho letto dei libri splendidi perché la storia della seta da quanto voglio dire non è un caso se poi io mi sono inoltrato sulla via della seta fino in fondo alla Cina e l'ho percorsa tutta senta ora mi viene in mente mentre leggevo questo libro mentre ascolto le sue parole si sente anche una passione proprio per la vita per i passaggi per appunto per quel fiume personaggi come quelli che lei ci descrive in questo libro sono legati ad una fase della storia in cui appunto intanto c'erano i contrasti c'era veramente la campagna c'era veramente la montagna potevi stare in montagna e non c'era nessuno non c'erano luci era un mondo in cui i confini erano più netti oppure questa è soltanto veramente un'affermazione un po' sciocca avventure come queste in forme diverse sono sempre possibili cioè personaggi in questo senso lei ha ragione questo libro racconta una storia che poteva essere anche ambientata sia a parte le caratteristiche che lo legano al novecento ma poteva anche essere ambientata nel secolo precedente quindi è un personaggio in questo senso letterario legato a una certa stagione anche della nostra vita oppure oggi potrebbero esserci personaggi altrettanto avventurosi no ma ci sono credo che ci siano credo che ci siano personaggi altrettanto avventurosi personaggi che vivono così certo cambia cambia l'ambiente storico si modifica ovviamente l'ambiente storico si modificano gli eventi reali in cui avvengono queste cose ma potrebbero benissimo essere successi in un altro paese e in un'altra epoca storica non so perché io chiedevo perché una delle caratteristiche interessanti di questo paese e contemporaneamente un po' strane è che ci sono tante storie che potrebbero essere raccontate e spesso non vengono raccontate poi le scopriamo per motivi casuali una lettera su un giornale oppure un servizio televisivo e allora tutti quanti diremo guarda incredibile e allora come se uno pensasse ma che è successo alle storie in questo paese forse ci vorrebbe appunto non solo che Romanzo non fosse morto ma anche qualcuno che andasse in giro proprio a piedi ecco questo aspetto a scrivere peraltro ci sono grandi pensatori che non riuscivano a pensare se non camminando c'è un nesso molto forte fra proprio lo spostamento dello spazio con i piedi con il corpo che si sposta annusa si bagna per la pioggia e il raccontare storie Mario Biondi per me è così io non potrei non avrei mai potuto raccontare storie se contemporaneamente fossi andato in giro di qua e di là per il mondo a guardare e letto libri in altre lingue appartenenti ad altre culture lei dice non sappiamo raccontare è vero non sappiamo raccontare le storie ci perdiamo delle storie fantastiche incredibili e ce le perdiamo non le raccontiamo mentre gli altri nelle altre lingue nelle altre culture sono legatissimi al loro mondo alla loro storia noi cerchiamo sempre di scappare non so per quale ragione abbiamo sempre una gran fretta di metterci le cose le vicende alle spalle ci soffermiamo magari un po' troppo sulle vicende tragiche con un compiacimento che mi dà francamente molto fastidio sono molto infastidito da questo soffermarsi sulle vicende drammatiche non che non siano importanti ci mancherebbe altro ma trovo che ci sia un compiacimento macabro che fa non va bene secondo me non va bene perché non va bene perché le dice questi giorni abbiamo davanti agli occhi quell'orrore su cui sarà il caso di riflettere a lungo l'orrore di erba le dice tra l'altro dalle sue parti ci sarà molto da perché c'è troppa troppa attenzione non è una storia anche quella incredibile che storia c'è lì dietro lo sappiamo c'è un gran compiacimento sul fatto che è stato tagliato un collo sono state usate delle stranze quello va bene quello è la morbosità universale ma non c'è un minimo c'è pochissimo tentativo di ragionamento su che cosa possa veramente come mai questa terribile incredibile follia questo vuoto della ragione che è scattato a un certo punto per me l'interesse è quello non sono nei sangue beh naturalmente quello sarebbe il punto l'ultima battuta poi siamo arrivati quasi al momento di ascoltare vediamo se lei rimane con noi ascolterà la voce di chi vince sperando che qualcuno indovini di quale località si tratta e quindi potrà chiedere una dedica di parlare con l'autore del libro che sta per leggere questo aspetto dicevamo all'inizio dei molti nomi del personaggio questo mi incuriosiva di solito appunto il nome associamo un po' ingenuamente un nome ad un oggetto è come se i due aspetti fossero c'è l'uno c'è il nome c'è l'oggetto c'è l'oggetto il nome un personaggio che ha più nomi cosa ci dice a quel po' del romanzo in quanto romanzo ma ci dice ci parla della proteiformità della vita di quanto possono essere della relatività questo qui è uno è un altro è un altro ancora in tre momenti è lui sempre lui però è tre persone in tre momenti diversi della sua vita è un fatto del tutto relativo se lo beccavano da ragazzino quando scappa rimaneva con quel nome e cognome per sempre se fosse morto mentre guerreggiava mentre combatteva nel machi francese con la resistenza sarebbe morto con quel nome poi alla fine ha un terzo nome rimaniamo a dubbio che magari ne troveremo un quarto vabbè tanto Mario Biondi grazie per l'ora di essere stato con noi Destino pubblicato da te a questo libro ora aspetti ancora qualche minuto ascoltiamo la voce degli ascoltatori e vediamo se qualcuno di loro potrà parlare con lei allora gioco a fare grazie a tutti